Ciao da Avsim! Speriamo che ci arrestino tutti, speriamo che ci retrocedano, che la giustizia faccia il suo corso con fido, con fido nella guardia di finanza e nella procura di Perugia, così forse ci scampiamo Federico Chiesa. Sono serio, eh? Qualunque cosa, qualunque altra cosa, ma non Federico Chiesa. E sono pronto ad essere poi preso in giro tra un po' di tempo, qualora Chiesa dovesse realmente diventare un calciatore della Juventus e dovesse fare golle assist a raffica, io dovessi star qui ad elogiarlo e a dire che comunque starà giocando eventualmente bene. Non che sia stato un ottimo acquisto, perché questo difficilmente lo dirò. Non ho problemi, non ho problemi. Io difficilmente esprimo dei giudizi definitivi sui calciatori che possono essere della Juve o che sono già della Juve perché mi tengo sempre cauto e lascio sempre un margine di incertezza, di possibilità nei confronti di chiunque. Lo voglio fare anche nei confronti di Federico Chiesa, ma resta il fatto che io a Chiesa la Juve non ce lo voglio, non lo voglio, non ce lo voglio. E l'ho detto una miriade di volte. Ve ne avevo anche parlato ieri nel discorso anche Douglas Costa e dobbiamo tornare a parlare del discorso Douglas Costa appunto tenendo conto di quello che ha riportato ieri sera Gianluca Di Marzio a Sky Calciopercato Originale. Non è che cambino molto le cose solo perché ne ha parlato Di Marzio, anzi ripeto, forse avrei anche potuto evitare di fare questa addenda, questa aggiunta a un discorso già fatto, ma vorrei fare un recap ed essere un po' più chiaro aggiungendo anche ulteriori dati per spiegare perché il mio no a Federico Chiesa. E non è solo un fatto di cifre, è secondo me proprio un fatto di miopia, cioè questo calciatore viene sopravvalutato da anni, viene sopravvalutato da anni e lui di anni ne ha a stento 23 ed è già un sopravvalutato notevole. Io non credo affatto che Federico Chiesa possa essere un crack, che possa essere un grande calciatore e che possa arrivare al livello della Juventus. Non dobbiamo commettere l'errore che abbiamo commesso con Federico Bernardeschi, l'altro Federico proveniente dalla Fiorentina. Noi abbiamo pagato Bernardeschi tre anni fa 40 milioni credendo che sarebbe stato un crack del calcio italiano, ammettiamo questa cosa, quando la Juve ha acquistato Bernardeschi era convinta evidentemente che si sarebbe trattato di un grande calciatore del futuro del calcio italiano ed europeo. E anche molti di noi tifosi lo credevano perché comunque alla Fiorentina aveva fatto buonissime cose. Che cosa ne è adesso di Bernardeschi? Voi mi direte ma Chiesa ha un'altra testa e non è la stessa persona di Federico Bernardeschi. Però credo che Bernardeschi nel suo periodo alla Fiorentina e anche passando per il Crotone aveva dimostrato già qualcosa in più di quello che ha dimostrato ad oggi Federico Chiesa che a differenza di Bernardeschi è stato già pompato abbondantemente. Si era parlato di 70 milioni per lui e tremiamo a questa prospettiva perché 70 milioni per Federico Chiesa in questo momento ma piuttosto vai a prendere un esterno sinistro tipo Gosens o qualcun altro che può servirci. Ma piuttosto vai a prendere Ussema Uar che può servirci e per il quale pare abbiamo mollato la pista ovemmai ci siamo realmente entrati a percorrerla perché non c'è cash. Ecco se non c'è cash per Uar non c'è cash per nessuno e non dovrebbe esserci per Federico Chiesa. Al netto di una valutazione inferiore a 70 milioni e al netto di una formula di prestito con riscatto come quella per McKennie come quella più precisamente per Morata con una Fiorentina che secondo Di Marzio non vuole contropartite ma solo ed esclusivamente appunto cash. In ogni caso a mio avviso si tratta di un'operazione negativa da evitare da scampare come un fosso e vi dico anche perché dal mio punto di vista modestissimo poi mi posso sbagliare 200 mila volte Federico Chiesa non sta bene in questa Juventus. La Juventus di Pirlo ha evidentemente bisogno di giocatori che fanno pressing, di giocatori dinamici, di giocatori anche duttili nello stesso svolgimento della singola partita. Non solo che una partita li metti in un ruolo e in una partita in un altro. Lo abbiamo visto parzialmente, solo parzialmente ma è già significativo questo discorso contro la Sampdoria e lo vedremo domenica contro la Roma. Cioè una squadra, una Juve che vede i suoi giocatori muoversi continuamente per il campo e cambiare continuamente posizione pur mantenendo più o meno gli stessi compiti. Perché la Juve di Pirlo è una Juve di funzioni, il ruolo per Pirlo è una funzione non una posizione. Ebbene Chiesa è uno dei giocatori meno duttili e malleabili che ci sono nel calcio italiano ed europeo. Perché va sempre dritto per dritto, sempre a testa bassa e dialoga pochissimo con i compagni. Ci sono numeri che lo confermano e vediamoli poi più avanti vi parlo del discorso Douglas Costa, Liste e anche di Sami Chiedira. Perché su quello dobbiamo fare un altro passaggio necessario per capirci. Perché io sto ascoltando delle assurdità in parte, altre cose sono anche abbastanza fondate, veritieri e credibili. Però ci sono anche delle assurdità in giro che mettono anche i giornali. E allora, i numeri di Chiesa che ho preso dal portale fbref.com, che è molto ricco nelle statistiche e fanno riferimento in particolare alle ultime 3 o 4 stagioni. Federico Chiesa tra l'altro nato 25 ottobre 1997, all'attivo 191 presenze con 44 gol e 29 assist, 0-23 gol a partita e 0-38 assist a partita. Numeri così letti anche interessanti, ma fa 3,57 tiri ogni 90 minuti. Troppi per un giocatore che nella Juve dovrebbe teoricamente collocarsi esterno-destro per sostituire Quadrado. Perché non credo proprio che Chiesa possa andare ad occupare pure lui la casella dell'ala destra. Perché chi ci deve star prima? Dybala, Kulusevski, Chiesa? Cioè, sono un po' troppi. Già così, casella dell'ala destra che potrebbe anche non esserci nel momento in cui si giocherebbe con l'attacco a 2, si giocasse più precisamente, ma anche nell'ipotesi voglio dire, con l'attacco a 2 e il trequartista con Ramsey per esempio. Viene proprio meno quella casella. E quindi un centrocampista esterno, quello che dovrebbe essere l'evoluzione tattica di Federico Chiesa, che fa 3,57 tiri a partita, non è un centrocampista esterno. considerando che ha una precisione al tiro, cioè tiri in porta su tiri, 31%, che non è neanche male, ma gol su tiri 0,06%, cioè Chiesa tira sempre e non segna quasi mai. Negli ultimi tre stagioni ha fatto 23 gol, ma ha accumulato un punteggio. Expected goals, cioè gol potenziali, tolti i rigori, quindi non penalty, expected goals, per 90, no, totali, totali, di 26, cioè ha segnato 23 e avrebbe dovuto segnare 26. Capite quanti gol si mangia? Normalmente quando uno fa 23 gol ed è un bravo giocatore di XG accumula 17, 18, 20, quindi sempre un po' meno. Chiesa ha accumulato di più e ha segnato meno. Quindi dal punto di vista offensivo è un giocatore molto molto carente, ma anche in costruzione. in questi anni ha una media di precisione dei passaggi del 71%, cioè 71%, è bassissima. Come puoi mettere un giocatore col 71% di precisione dei passaggi a fare costruzione bassa o comunque laterale, ma diciamo a centrocampo, a dialogare con i compagni in una Juve di Pirlo che gioca di prima a due tocchi? Io non ce lo vedo assolutamente. Poi per quanto riguarda l'assistenza ai compagni, ogni 90 minuti Chiesa accumula 3,72, diciamo, crea 3,72 occasioni di tiro e 0,52 occasioni di gol. In fase difensiva ha anche una precisione sui dribbling, un'efficacia sui dribbling del 55%, che non è malissimo e comunque più della maggioranza, però per quanto riguarda la fase difensiva fa, vince, vince un contrasto ogni 90 minuti e partecipa al pressing con il 25% di efficacia ogni 90 minuti. Quello poi dipende molto dalla squadra. Diciamo che i numeri per la fase difensiva ce li avrebbe pure, però io veramente lo coloco molto male, lo inserisco molto male in linea teorica nella Juve di Pirlo per quelle che sono le esigenze della Juve di Pirlo e per quelle che sono le caratteristiche specifiche di Federico Chiesa. Poi scendendo un po' con i vedi per terra, dobbiamo parlare della realtà delle cose. Anche Di Marzio ha detto, quello che non poteva non dire, al di là che sia Di Marzio o chi altri, Chiesa non viene alla Juve se non c'è un'accessione. Cioè lo schema cronologico è, prima la Juve cede Douglas Costa, che forse potrebbe andare in Bundesliga o forse potrebbe andare in Premier League, perché forse c'è interessamento di club rispettivamente dalla Germania e dall'Inghilterra per Douglas Costa, ma finora nulla di serio. Poi se Douglas Costa va via, la Juve avrebbe il piano per prendere Federico Chiesa nel discorso appunto cash, magari anche prestito molto oneroso, 10-15 milioni e il resto glielo dai poi. E poi bisogna capire quant'è il resto, perché davvero io penso 40 milioni, con una formula del prestito 40 milioni ci posso anche arrivare, proprio perché non sono soldi tutti e subito e allora vai a dare qualcosa in più. Ma se non fosse formula del prestito, massimo massimo, 25-30 milioni, ma sono anche troppi per questo giocatore, estremamente sopravvalutato, estremamente sopravvalutato. Chiesa è bravo solo a correre, è bravissimo nella corsa nel campo, è impreciso al tiro, è impreciso nel passaggio, non è un giocatore associativo, non è un giocatore di coinvolgimento, non è un giocatore che alza la testa e guarda i compagni. Quanti cross avete visto fare a Federico Chiesa? Pochissimi, quindi come potrebbe evolvere realmente in un esterno destro di centrocampo? Come può servire alla Juve? Ripeto, perché alla Juve in questo momento abbiamo solo Quadrado, che fa quel ruolo ed eventualmente Kuluseschi, con Portanova, Seresta, che potrebbe essere impiegato lì e McKennie che potrebbe fare l'adattato. E anche Kuluseschi sarebbe adattato a piede invertito, quindi un po' un casino. A destra avremmo bisogno di un rinforzo, ma non Federico Chiesa e non a quelle cifre. Poi ripeto, c'è un discorso liste che è fondamentale, e qui a questo mi riferivo quando parlavo di autentiche fesserie che si sentono in giro, e ve ne ho già parlato ieri. Al momento attuale, con De Sciglio, Chedira e Douglas Costa, che dovrebbero partire, e fra botta inserito nella lista, quindi nella rosa dei titolari, nella rosa della prima squadra, la Juventus ha tre esuberi per la lista UEFA. In lista Serie A ci vanno tutti e avanzano anche dei posti. In lista UEFA noi abbiamo tre giocatori che vanno fuori, che idealmente sono, appunto, De Sciglio, Chedira e Douglas Costa, cioè uno per reparto. Ora, se noi vendiamo Douglas Costa e arriva Chiesa, chi sacrifichiamo per far entrare Chiesa in lista UEFA? Rugani? Va bene, sacrifichiamo Rugani, però questo significa che siamo un po' più corti in difesa. È vero che, per quanto riguarda la difesa centrale, ci sarebbe anche l'apporto a turno di Alexandro, di De Sciglio e di Danilo, ma appunto anche De Sciglio andrebbe fuori lista, quindi metteresti fuori due difensori, De Sciglio e Rugani, per poter avere Chiesa e Bernardeschi lì davanti, che si aggiungono a Kuluseschi, e poi c'è da gestire l'attacco con Dybal, Ronaldo e Morata. È un po' sbilanciata, anche a voler considerare Chiesa, a tutti gli effetti come un centrocampista. È un po' sbilanciata e, ripeto, non è automatico. Cioè, se vendi Douglas Costa, che è attualmente virtualmente fuori lista UEFA, prendi Chiesa che attualmente virtualmente andrebbe fuori lista UEFA. Non ci troviamo, capite? Non ci troviamo. Per questo io vi ho detto che, dopo Morata, sostanzialmente, il mercato della Juve è chiuso, bisogna fare solo le uscite, tra cui Sami Chiedira, e quindi in chiusura possiamo anche godere di una bella notizia, perché a quanto pare lunedì Chiedira se ne va. Evviva! Anche con un discreto anticipo sulla chiusura del calciomercato. Meraviglia! Perché evviva? Perdonatevi, non offendetevi, perché di Chiedira non se ne può più. Chiedira solo due anni, che è cronicamente infortunato, e si è preso la bellezza di 12 milioni netti per stare al J-Medical. E adesso starebbe, pretendendo anche da qui le lungaggini, una buon'uscita per andarsene. Cioè, veramente una cosa avrebbe anche diritto, avete pure ragione a dire che lui avrebbe diritto a prendere tutti i 6 milioni fino a giugno come da contratto, però è una questione pure di onestà, di lealtà, di essere gentili uomini. Hai preso 24 milioni in 5, 24 milioni netti circa, che dire, in 5 stagioni alla Juventus. Di cos'altro hai bisogno? Se sei un campione del mondo, un campione d'Europa, un giocatore così intelligente, così valido, ma vattene senza un euro, di cos'altro hai bisogno? Soprattutto se sei così valido, così intelligente, così forte, troverai 10.000 squadre che vogliono tesserarti. Evidentemente, se non le trovi, non vali così tanto, e di conseguenza, quei soldi non dovresti pretenderli. Poi vedremo appunto se effettivamente Chiedira uscirà lunedì. Intanto è un dato certificato che ieri, quindi 24 settembre, Chiedira è tornato ad allenarsi a tutti gli effetti, facendo allenamento integrale con i compagni, però non ha poi partecipato alla partitella che abbiamo potuto intravedere nei tre minuti di video diffusi dalla Juventus su JTV e sui canali social. E quindi Chiedira c'è, ma sostanzialmente già non c'è più. Nei commenti fatemi sapere come la pensate, in definitiva, su Federico Chiesa, sperando di non dover fare altri video sull'argomento, e cioè che la trattativa non decolli, non esista e non venga portata a definizione, al netto poi dell'eventuale cessione di Douglas Costa che potrebbe avvenire in ogni caso per altre necessità. E vi ringrazio per l'attenzione. Mettete like a questo video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!